Allora stasera sono completamente ubriaco e vi svelerò questo segreto Nessuno di voi capirà mai quello che ha in testa l'artista, capite? E' inutile che dite fai questo, fai quello, ritorna, fai E fai con WC8 e quello e l'altro Non faccio il mixtape, non lo faccio Sto facendo il disco Il disco è come fare un figlio, capite? Il mixtape lo faccio quando mi pare Perciò sì, Aura Argento è fatta così, Fuori invece è fatta così E il prossimo singolo sarà diverso da Aura Argento e da Fuori Perché è così che deve essere Fare sempre la stessa cosa è facile Davvero, non ce ne frega un cazzo se non vi piace Almeno a me Io lo faccio per me Se poi piace pure a voi Se non vi piace sti cazzi È la mia È rap È rap È musica fatta con il cuore delle persone che vive certe situazioni Non ce ne frega un cazzo se non ti piace Non me ne frega un cazzo Niente Ogni volta ci si prova a esprimere in maniera diversa sia musicalmente sia che a livello lirico Perché è importante sperimentare, è importante Sento un sacco di musica, non potrei mai fare un disco tutto quale La base tun 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 c'è che palle Non esiste la trap, non esiste l' underground C'è il rap, il rap è musica e uno lo può fare così, lo può fare colà, lo può fare in tutti i modi, non cambia un cazzo È facile e io vi vedo Io non siete buoni a fa' un cazzo E io e l'amici miei siamo il meglio di tutti Non mi frega un cazzo quanti dischi vendete Siamo il meglio Buonanotte E io e l'amici miei siamo il cazzo